Ciao Macci, spostami il mio telefono, roghi un po' più, come? Verso di te, così, sì, Nina è indovinata, c'è anche la Sere, ciao Bea, Serena Beato, buongiorno, buongiorno, ciao Bruno, ciao Sara, io sto leggendo da qua, Marci perfetto, molto bene, la Nina ha i legs imbarattanti e maglia 05 e 9, Nina voglio la foto dopo, ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno, c'è la Marghe, Marghe Rossini, buongiorno, c'è la Marghe, Marghe Rossini, la Marghe, lui c'è buongiorno, c'è musica applicatore Bruna oggi, perché? Sposto un attimo che ci si vede proprio a te, buongiorno, buongiorno, Marina buongiorno, ho fatto il ring, Sara, secondo te ho fatto il ring? Sei stretto, sì, colui che mi spingeva, se faccio il ring, sapete che l'ho sentito in tutto modo, se riesco a farlo lì, sappiate, alle bandieri, buongiorno, bene, ci siamo? Sì, direi che possiamo partire, allora oggi, ci calderanno? Bene, allora oggi faremo una mobility un po' diversa dal solito, nel senso che faremo un programma di un nostro caro amico Inge, che è uno dei ragazzi che ha fondato on air, è un programma sulle anche, quindi un lavoro che si chiama 9090, è un lavoro che è simile a quello che facciamo di solito in box in preparazione per lo squat o per i pistoli, per queste cose qua, però diciamo che va un po' più nello specifico, durerà una decina minuti, 10-12 minuti, adesso la Bruna ce lo spiega tutto, ed è, come dicevamo, un'ottima preparazione, pre-squat, pre-tutto quello che ha fatto, tutti i lavori che avrebbero utilizzato nelle anche e ovviamente nelle anche. Mi raccomando, seguite, seguiamo, io compreso che farò molta fatica, da Tala Bianca, Dionica, seguiamo tutto quello che dice la Bruna e salutiamo tutti anche Inge, che forse si vede o si verrà, ciao, e ricordiamo a tutti che chi non può fare i video in diretta, vedere i video in diretta, non può farlo tutto, dopo lo sul canale YouTube Celebox, quello studio, lo viverebbe dopo, dentro 5 minuti. Un solo consiglio, se avete un materassino sottile come il mio, fatelo diventare doppio, perché sennò fa male l'appoggio sul malleolo, sulla nocetta dell'alba liglia. Ci mettiamo sediti, già mettegate, andiamo a portare la gamba destra in rotazione, appoggio, caviglia, sinistra, ginocchio, sinistro, ad angolo retto, 90 gradi, idem, l'altra gamba, caviglia, ginocchio, in questa posizione. Dovete sentire che un ischio è sollevato, l'altro è appoggiato. Da qua andiamo in flessione del busto avanti per 10 volte, e torno. Fletto, devo sentire l'anca di destra. Tenete l'angolo retto di entrambe le gambe. Mi fermo avanti, porto sulla caviglia di sinistra, rimango 5 secondi, 4, 3, 2, 1, riappoggio. E lo rifacciamo. Sollevo, 5, tenete il ginocchio a terra, e riappoggio. Fantastico avere loro che taglia, ma? 5, 4, 3, 2, 1, gioco. Ancora due volte. Ancora una volta. Vado su, speriamo che si senta la mia voce. Braccia tese, leggo il busto avanti. Vado in avanti e rimango 5 secondi. 3, 2, torno. Di nuovo. Vado avanti. 5, 4, 3, 2, 1. Ancora due volte. 5, 4, 3, 2, 1. L'ultima volta. 5, 4, 3. Adesso lo facciamo in dinamica. Vado avanti e indietro. Giù. 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 Dinamica fermandoci un secondo avanti. Vento. Pronti. L'ultimo. E vado dall'altra parte. 5, 4, 3, 2, 1. 90, 90, gamba sinistra. Controllo. Fabiglia, ginocchio, cabiglia, ginocchio. 10 volte vado busto flesso avanti. Giuro che prima non fa lo tagliamo l'erba. Stiamo a ripartire, no? Vado giù. E salto. Devo sentire in l'anca di sinistra. Agora 4 noti. cerco di andare sempre un po' più giù rimango afferro se voglio con la mano piedi vuoto la gamba destra cinque setorni sto subito tre due uno e torno giù due uno torno giù ancora sollevo quattro tre due giù ancora sollevo quattro tre due l'ultima volta rilevo quattro tre due porto il busto su schiena dritta braccia fuori vado in avanti vado in avanti mi fermo cinque secondi flessione del busto schiena dritta tre due uno torno muovo cinque cinque quattro tre due uno cinque quattro tre due 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 su ancora cinque quattro tre due l'ultima volta poi lo facciamo in dinamico vai cinque quattro quattro tre due anche a sinistra si deve sentire vai in dinamico giù allunga la testa torna vai giù mettete la schiena dritta giù ora tre volte giù ora due volte giù l'ultima volta su portate i piedi davanti e dimariciamo le gambe al massimo che riuscite che bello tagliare bello allora da qua vado in torsione con la mano sinistra verso il piede destro rimango due secondi torno e vado dall'altra parte sai sali e vai su giù giù in aria giù giù ultime due volte appoggia il gomito destro al centro la mano sinistra sullo sterno il gomito spinge per terra e vado in torsione guardando in alto a sinistra e poi torno cinque volte vai apri spinge per terra il tuo gomito uno giù vai due lentamente ispira tre espira quattro dobbiamo continuare a farlo ma distendendo anche il braccio fanno con noi vai uno due tre quattro l'ultimo poi cambiamo braccio cinque gomito sinistra a terra mano destra sullo sterno torsione destra ispira spinge giù il gomito sinistro ispira guarda in alto espira tre quattro aggiungi i bracci vai uno lentamente cerca di aprire bene due tre quattro cinque sali torna a metterti nella posizione novanta novanta gamba destra abbiamo iniziato prima quindi andiamo a destra controlla la tua posizione ginocchio caviglia sinistra ginocchio caviglia destra le mani si appoggiano sul ginocchio destro per tenerlo giù da qui andiamo a fare una esalotazione dell'anca sinistra e poi torno con la mano spingo giù il ginocchio destro e poi torno vai ancora su giù su uguale lo faremo adesso sempre tenendo giù il ginocchio ma sollevando le mani le tieni su schiena dritta diminuisce un po' il range di lavoro perché la schiena è dritta cambia un po' l'angolo tre soffermati un po' in exalotazione quattro spingi giù il piede usa il piede per andare in exalotazione cinque torno fai dall'altra parte sistema 90-90 le tue gambe controlla la posizione le mani spingono giù il ginocchio di sinistra e fai in exalotazione spingendo giù il piede giù apri col busto flesso avanti c'è una maggiore escursione del rom del movimento cinque sali quattro dopo porteremo il busto eretto cinque sali vai uno piano spingi giù il piede due concentrati sulla spinta del piede destro tre calma eh quattro cinque ti metti seduto se i talloni non troppo lontani lo facciamo in dinamica cioè spingo giù spingo col piede e vado dall'altra parte spingo col piede e vado dall'altra parte spingo apro guardate bene la gamba eh prima apro l'esercizio di prima poi ruoto sui piedi e giù spingendo col piede perché se no mi scivola il culo avanti apri spingi col piedi giù di nuovo apri spingi col piede giù l'ultimo apri spingi col piede giù e sali e questa è la routine che si potrebbe fare prima di fare tutto quello che si fa squat pistol, affondi, snatch ok? adesso partiamo con la parte ah no scusate devo fare il piggio gamba destra avanti scusate ho detto come sta facendo Robby piccione così andiamo a lavorare un po' sullo stretch statico un minuto per gamba facciamo due facciamo due per gamba posizionatevi all'inizio con le braccia tese cercate di allontanare la gamba sinistra dietro spingiamolo due minuti eh prima se vi sentite un po' di taglia aerea vado giù provate a sentire se dopo la gestituzione della mobilità dell'anca è più facile fare il video se riuscite ad andare più giù se riuscite ad andare più giù deve essere un buon parametro per valutare come lo facevate prima e come lo fate adesso e dopo la mobilità delle anche se riesco ad andare più a 90 gradi con la gamba un minuto un minuto un minuto pregostare durante il video e poi vi restate 30 minuti 30 secondi respirate 30 secondi 30 secondi 30 secondi respirate 30 secondi 10 secondi, poi uscite con calma dalla posizione, 3, 2, stagia, riposo, con calma cambiate gamba, sinistra avanti, posizionate, e facciamo partire di nuovo il timer per 2 minuti. Inspirate, allontanate bene la gamba dietro. Spirate, allontanate bene la gamba dietro. Spirate, allontanate bene la gamba dietro. 20 secondi Uscite dalla posizione con calma Passiamo alla posizione prova, cioè pancia giù per andare a lavorare sulle spalle Braccio destro disteso fuori Mano sinistra piegata un po' sotto la spalla un po' spostata Da qua devo portare il piede sinistro verso la mano destra Scoppio, vado giù, apro Mantengo la posizione un minuto, state lì Con la mano sinistra spingete bene per andare in torsione col giusto Aprite l'anca di sinistra cercando di appoggiare il piede a terra e poi piano piano lo spostate verso l'alto Ma salta la testa, la tenta appoggiata a terra Rimanete lì Ora piano piano riportate avanti il ginocchio sinistro Andate in posizione prona Distendi il braccio sinistro, mano destra pressa Appoggio la spalla sinistra e vai Resti lì Resti lì Resti lì Resti lì Sì Lì Resti lì Lasciamo dalla posizione con calma ci mettiamo in ginocchio Allora, da qua ci mettiamo con le gambe e il calciate che è più facile, stendendo di ancora taglia l'erba, se preferite stare così, se no andiamo con le gambe e il calciate. Andiamo a lavorare un po' sul precipite, quindi porto il suo braccio destro, afferro con la mano sinistra il vomito e vado a spingere verso il basso, con la mano sinistra, il braccio destro. Occhio alla schiena, non devo andare avanti con il busto, manteniamo la posizione, un minutino. Con la mano sinistra cercate di andare giù, di sentire le scapole. Occhio che un errore è stare così con la testa flesta avanti, guardate un po' avanti, non guardatevi più. Flettiamo lentamente, un po' avanti. Cosa stanno facendo? Flettiamo il busto lateralmente, a sinistra. Poi aumenti un po' lo stretch e poi torni. Dieci volte. Lento scendo. Non sollevare i glutei. Dopo che abbiamo braccio. Spendi, rilassa un attimo le spalle. E braccio sinistro. Afferro il gomito, spingo, flessione giù. Un braccio. Adesso, piano piano. Vai in pressione laterale. Dieci. E salto. Immagina di portare l'ascella verso il soffitto. E salto. E salto. E salto. E salto. E salto. 9. 9. 10. Rilassa le spalle facendo dei piccoli cerchi. spalle. E salto. E salto. Solo dei respiri semplici. A una narice alla volta. Dopo vi chiederò di fare otto tempi di ispirazione. Quattro tempi di apnea ispiratoria. 8 tempi di ispirazione sempre a una narice. Ok? La narice non va schiacciata. Per deviare il setto nasale va semplicemente chiusa o con una piccola pressione o dal basso verso l'alto. Se siete in una posizione comoda, faremo 10 atti respiratori. 5 con la destra. 5 con la sinistra. Chiudi la narice sinistra. Inspira. Normalmente sali. Prendi l'aria. Io uso Roby. Espira profondamente. i tuoi tempi per provare la respirazione. Ancora. Inspira. Un'altra volta. Adesso faremo 5 atti respiratori. 8 tempi sali in ispirazione. Inspira. 1 2 3 4 5 6 7 apnea 4 3 2 espira 1 2 3 4 5 6 7 8 Inspira. 2 3 4 5 6 7 apnea 1 2 3 espira 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 espira 1 2 3 4 5 6 7 apnea 1 2 3 espira 1 2 3 4 5 6 7 respira 1 2 3 4 5 6 7 apnea 1 2 3 espira l'ultimo 1 2 3 4 5 6 7 respira normale 5 6 7 7 8 7 8 8 8 8 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 15 15 16 16 16 17 18 18 20 20 20 20 20 20 20 21 20 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 Apnea 4, 3, 2, espira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ispira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apnea 1, 2, 3, espira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ispira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apnea 1, 2, 3, espira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rilasso, espira normale Ancora 1 E abbiamo anche felice di tagliare l'alba Bene, grazie che hai partecipato, grazie a Luna Grazie a tutti Ci vediamo con il box alle 17 diretta Eccolo e Lolo Canegoli E con la Luna ci vediamo E' andata in pausa Oggi va così, le dirette oggi non vanno Buona Pasqua ragazzi E buona Pasqua a tutti Ci vediamo col Pilate, sono anche lì Con i ragazzi Noi dormiamo di notte Bene, ci vediamo dopo Pausa pomeriggio e domani sempre A tutti i giorni Ok? Buona Pasqua A presto Ciao Non vedo niente Robi non riesco a spegnerlo La separatura è a me andata in